Sì, una macchina sportiva! Sì, una macchina sportiva! Soldi, 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 soldi! Oh, no! Le regole sono regole! Ecco, questo è per pulirti! Grazie! Ah, wow! Un biglietto per Parigi! Ehi, io vado a Parigi! Vai, ragazza! Ciao! È così fortunata! Salve, signorina Rison! Portami all'aeroporto! Albert, ha bisogno di una lezione! Portala a Boris, piuttosto! Salve, Pa! Parigi? Aspetta! Benvenuta all'inferno! Dovevi essere l'una! Posso prendere la tua valigia? No, grazie! Che posto è questo? I miei soldi! I miei vestiti! Devo andarmeli di qui! Che cosa? Nessun segnale! Dai, dai! E funziona! Ancora niente! L'albero! Mi aiuterà! Telefono, signore! Ciao, dolcezza! Ciao, papà! Devi tirarmi fuori di qui! Siamo a Boris, non a Parigi! Non ti sento! Il taxi sta arrivando! Papà! Che cosa? Papà! Per favore! Voglio andare a casa! Papà! Mi ha lasciata in mezzo al nulla! Somebody wants to meet the world is gonna wrong me! Ciao, io sono Zack! Ehi, io sono Luna! Lasciami andare! Ti stavamo aspettando! Blackie, stop! Lontanalo da me! Blackie, dai! Il tuo cane mi ha rovinato il vestito! Ci sono! Ho degli altri vestiti per te! Va di moda a Poris? Ok, dimostralo la tua stanza! Spero ci sia la jacuzzi! Questa sarà la tua stanza! Oh wow! Vorrei fosse uno scherzo! Mi dispiace! Ops! Sono mie! Ma è terribile! Voglio andare a casa! Non spaventarlo! È così carino! Questo è il giorno peggiore di sempre! Un buon pranzo ti rallegrerà! Speriamo sia buono! Ecco qua! Un po' di porridge con un view star sopra! La colazione dei campioni! Ho un'idea migliore! Questo è degno di Instagram! Riceverò tanti mi piace! È così che si fa! Oh no! Il tuo iPhone! Penso di averne un altro! Come non detto! Buon appetito! Cosa stai facendo? Lavo i piatti! Ehi! Aspetta! Usa la spugna! Beh! Ti vendicherò! Attenzione! Ci risiamo! Non è divertente! Ma è il mio reggiseno! Dammelo! Blake! Lascia perdere il reggiseno! Ora siediti! Dammi la zampa! Zampa! Bravo! Ora vincerò sicuramente il concorso! Ehi! Ti posso aiutare io? Ops! Blackie! Andiamo! I ragazzi! È già mattina! Finalmente si sveglia! Ecco il tuo caffè mattutino! Hai del latte? Certo! È il latte più fresco di sempre! Il tuo cappuccino! Grazie! Diventerò vegana! Devo sistemarmi! Dov'è il mio trucco? Ehi Luna! Guarda cosa ho fatto! Grazie per i colori! Prego! Papà! Che cosa? Devo aggiustarlo! È ora di un makeover! Pronta! Perché mi sono fidata di te? Luna è così male! Ok! Vieni con me! Guarda! Questo è Zeus! Vuoi cavalcarlo? Luna? Luna? Instagram sta per esplodere! Ehi! Andiamo! Ehi! Fai un selfie! Stai bene? Ora basta! Stai bene? Sì! 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 No, 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 no Ok, tesoro, è ora di andare a casa Oh, ehi Papà, mi sei mancato così tanto Spero tu abbia imparato qualcosa Papà, andiamo Andiamo Ok Immagino sia finita qui Ehi, pensavo avesse degli affari in città Sì Oh, mi permetta di aiutarla? No, farò da sola È cambiata Sei qui finalmente Andrai alla festa? No, ho altri piani Oh, una vecchia camicia Tasche vuote Non vuote Vuoi davvero andare con lui? Sì Oh 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 E i nostri finalisti sono Zack e il peloso Blake Ok, Blakey, dammi la zappa Ora gira Bravo Ora prendi la palla Blakey, prendi la palla La palla Blakey, guarda Ora dammi la palla Oh, bravo Ed ecco il nostro vincitore Sì Sì E questa è per te In piedi, in piedi Ehi, Luna Non vuoi ancora quel viaggio? Guarda quanto è bello qui Sono così contenta che siamo qui La ragazza di miei sogni Scusa, i cagli non sono ammessi a scuola Ciao, Luna Guarda come sono carini Sono così carini Sì, così carini Guarda quello Com'è felice E quell'alto Non riesco a vedere Cosa? Lei ama i cani Blake! Oh, le azioni di Lala Salsiccio sono scese di prezzo Blake, Blake Oh, eccoti Domani andremo a scuola Ma ci serve un buon travesti vini Questo non funzionerà No Devo aiutarlo di nuovo Come posso riuscirci? Oh, Blake È un'ottima idea Andiamo a scuola Ho sempre voluto vedere la scuola I cani non sono ammessi Oh Niente merente a scuola Vai dentro Non ti darò le mie patatine Buongiorno, signor Presidente Qualche cane oggi, Gary? No, signore Bene Niente cani Nella mia scuola Scusi Hai bisogno un po' d'aria Sento un odore delizioso Blake, no Preso Le allergie Qualcuno ha portato un cane? Cosa c'è nella borsa, eh? Potrebbe far freddo stasera Allontanalò Sì, signora Tutti i cani Amano i dolcetti? Cos'è questo? Perché è qui? Vai, vai, vai Vai dentro Vai Bingo Oh, c'è qualcuno? Ora non devo appagliare Non sono riuscito a trattenermi Preso Blakey Guarda che ho trovato Il cane deve andare a casa E tu? In pulizione Guarda Questo È la tua prima volta qui? No Wow E io ho portato il mio cane Una volta sola Tu hai un cane? Ah, io adoro gli animali Guarda Ma chi è bravo? Bucci, bucci, bucci Bucci, vucci What? Atticu To make your dream come true Faut For the shining star It will lead you to the top Reach the top Keep dreaming Reach the top Keep dreaming non c'è una via d'uscita ho esagerato di nuovo ne metterò di meno la prossima volta zac ha bisogno del mio aiuto non riesco a guardarlo è così triste devo prendere la chiave uno, due, tre, biscotti, quattro biscotti tanti biscotti, oh mio dio è stato più facile di quanto pensassi ma perché assumono queste persone? Blake! sei il mio salvatore fammi la scatola certo prendilo oh mio dio ti prego aiuta qualcuno mi aiuti oh mio dio sei il miglior cane di sempre accidenti figliolo cosa è successo? mamma questo cane mi ha salvato possiamo adottarlo? oh ma certo oh fammi uscire che cosa vuoi? eravamo fuori un attimo fa ma me scappa adesso ti porto dei giocattoli non posso più resistere sono tornato te l'avevo detto e ora come faccio? io me ne vado in spiaggia adesso andiamo a prendere delle caramelle forza cagnolone pavimenti puliti il sistema si sta spegnendo dobbiamo uscire da qui ti faccio vedere io aspetta cosa credi di fare? fermo ti ho portato un accappatoio speciale e degli shampoo starà scherzando forza cagnolone prendi accidenti non posso nemmeno fare una doccia da solo perché mai non vorresti fare il bagno? vuoi che mi risca a te? forza mamma dice di lavarsi hai bisogno di un po' di... ci penso io lei sa cosa fare fallo anche a me accidenti non sembro mica così stupido goditi il tuo pasto che c'è bello hai paura della ciotola per gatti? miau miau ragazzi forza stia lì accanto a me essere portato in giro che spasso e quindi Blake questa è la tua stanza vai oh com'è comodo potrei addormentarmi in qualsiasi momento ho tanto sonno Blake cos'è successo qui? cos'è successo? oh no questi sogni sono fuori controllo è ora di riposarsi Blake poverino non posso lasciarti così ora sistemo tutto perfetto questa donna pensa a tutto ho bevuto troppa acqua oggi che bello ok ora posso tornare a dormire Blake è ora di riprescarsi non mi serve questa roba non sono umano come cano dei diritti ok non puoi portarmi qui e pensare che e questo cos'è? che succede? bello voglio andare via e devo anche fare la cacca oh vuoi che ti spuntino il pelo? oh sì ma certo non capisci proprio niente non è così? dove sei? tranquillo sono qui che bello chi sei tu? fai attenzione con quelle incredibile cinque euro per favore beh te li meriti e quello che vuoi è Oh, buongiorno, Blake. Wow, non mi ero mai svegliato così presto. Dai, Blake, andiamo. Sveglia, sveglia, sveglia. Dove sono? Devo trovarli. Signora, signora, suo figlio non c'è più. Oh, non preoccuparti, Blake si è già svegliato. Eh, buongiorno. Va bene, allora io vado a fare la colazione. Non c'è bisogno. Che cosa? Non ti preoccupare, è stato Blake a prepararla. Oh, che capolavoro. Questo è il mio lavoro, nessuno può farlo meglio di me. Conosco la tua debolezza. Ah, questo non è ciò che intendevo. Ecco cosa intendevo. Questo dovrebbe andare bene. Ma quello è un dolcetto. Ma guarda quanti, eh. Quindi ora sei tu il preferito qui, eh? Ops. Ma è pazzita. Come vai, vorrebbe... Cos'è successo qui? Blake, che cosa hai fatto? Blake? Non sono stato io, è stata lei. Vediamo chi mente. Sei licenziata. Non pagherò per quello. Ti piace questo? O forse questo? Oh, ragazzi, sono così stanco di tutto questo. È stato via per così tanto tempo. C'è questo? Qualcuno li sta chiamando. Dove è andato? Oh, ecco! Oh, ecco ti finalmente. Cosa ci vai con lui? Hai trovato il mio cane? Sì, sono stato io. L'ho trovato io. Non ora, Leo. Chiedile di uscire. Oh, sì, sì. Ti va una passeggiata? Oh, ma sì! Mi hanno appena lasciato qui? Ragazzi, aspettate! Trovateli. Che bello. È stato visto all'interno delle visite. Ricevuto. Ti amo. Anche io ti amo. L'abbiamo trovato. Oddio, Carrie! Vai! No, sta escapando. Forse mi perdonevai questa volta? papà? Papà? Farò ancora una volta e ti tolgo da scuola. Leo, no! Non è abbastanza ricca per te. Andiamo. Ma non voglio i soldi. Voglio l'amore. Lizzie! Leo! Dove pensi di andare? Sì, ritirò. Ragazzi, oggi ci prepareremo per un test. Oh, finalmente posso vedere! Lizzie! Stai disturbando la lezione. Chiamerò i tuoi genitori. Ma non è giusto! E se lasciassimo correre? Ehi, prof! Può sistemare i miei voti? No! E sarai sempre un perdente! Che donna! Devo usare il bagno. Devo controllare. Rimani qui. Cosa abbiamo qui? Bene, iniziamo. Oh, non posso più aspettare! Oh! Ehi! Dov'è? Lizzie! Oh, Leo! Chiudi la porta! È accanto a me? Non può essere. Ho un'idea! Questo è il bagno delle ragazze! Non puoi canarmi! Oh, no! Penso che alla guardia piaccia la prof! Leo? Non di nuovo! Tutti quanti! Tutti quanti! Leo! Ho detto tutti quanti! Questa per fisica! Questa per storia! Questa per... inglese! Questa per... biologia! Questa per matematica! Questa per... Ancora! E ancora! Li porto dal preside adesso! Non mi incandarmi di nuovo! Come osi farmi questo? Non volevo! Ora è la nostra occasione! Ciao, mamma! Lui è il mio ragazzo! Ciao! Oh, lieta di conoscerti! Venite a mangiare! Buon appetito, ragazzi! Devo andare in bagno! Ma non funziona! Basta aprire il rubinetto! Che si dice? Hai bisogno di aiuto! Devo uscire da qui! Oh! Che si dice, Leo? Ti piace la mia famiglia? Sì, ma vorrei un po' di tempo da solo con te! Puoi andare al cinema? Sì, certo! Che bravo, ragazzo! Che figo! Sì! Wow! Vorrei questo vestito! Grazie! Tutto per te, Lizzy! Eh? Oh! Mmm! Qui! Fa per te, ooh! Ciao! Ciao! No Dove credi di andare? Lui non sarà mai! Guarda, prof! Dov'è? Papà? Di nuovo? Hai esagerato! Non andrai più a scuola! Andiamo! Ehi! Wow! Chi sei tu? Ciao! Vi serve una domestica! Ti stavamo aspettando! Entra! Wow! Leo, concentrati! Quindi, ogni volta che sottrae questo numero devi aggiungere! Non capisci niente! Ascoltami, figliuolo! Devi studiare per diventare ricco, come me! Una volta ero bello! Vabbè! Prendi questi! Così puoi iniziare a studiare! Sul serio? Non capisci niente! Liddy, sei tu! Andiamo in camerania! La tua camera è così bella! Hai anche qualcosa da mangiare! Lascia che ti mostri! A cosa serve questo pulsante? A cosa serve questo pulsante? che succede? Ehm... Che succede? Ehm... Ehm... Io sto pulendo! Che casino! Pulisci tutto! O sarai licenziata! Ehm... 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 Qual è? Ehm... 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 È il tuo primo giorno! Lasciati aiuti! Ehm... Ehm... Prendi! Ehm... 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 Ah! Lasciamo perdere! Ehm... Ehm... OChristian! Oh! Oh! Cosa dovrei fare? Ti sei dimenticato a te? Ci ti ha aiutato! Ok, Freddy! Ciao! Abbiamo un intruso! Che cosa sta succedendo? Dove siamo? Cosa state facendo insieme? Sta cercando di aiutarmi! Per il test! Sì! Sono la migliore studentessa della classe! Falle studiare! Cosa? Sei pronto a studiare? Basta quel pop-it! Eccomi tutti i libri! Forza, ragazzi! Oh! Del caffè! Leo! Ciao! Basta! Tornate a studiare! Acquistate! Sì! E come dovremmo classificare questo studente? Quattro! Quattro si concorda! Ho finito! Cosa? Sì! Ce l'abbiamo fatta! Sì! 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 Sì!